Eccoci bentornati su Go Games, siamo su Final Fantasy 7 Rebirth e in questo video andremo a vedere una missione secondaria. Siamo appena entrati nel capitolo 12, una volta entrati nel dodicesimo capitolo avrete la possibilità di spostarvi con il viaggio veloce dovunque voi vogliate. L'importante ovviamente è che come nel caso qui della prateria voi andiate, vedete, su un punto dove c'è scritto appunto spostamento rapido e potete farlo veramente in tutte le zone della mappa. Quindi adesso tutta la mappa è liberamente accessibile finalmente quindi non ci dobbiamo spostare sì col viaggio veloce ma solo in determinati punti per poterci spostare da una regione all'altra. Per cui in questo video andremo a vedere una missione secondaria, vi lascio al video tolgo la camma così se volete vi potete anche gustare i filmati visto che magari ci sono anche delle cose da rispondere e via dicendo ma prima vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanella, commentare, condividere, lasciare like e cogliamo l'occasione per ringraziare di cuore tutti gli abbonati al canale, tutti super grazie, vi lascio al video. Grazie a tutti. Oh wow, it's really you! 7th Infantry, right? It's good to see you again, Captain. You here to offer support? Something like that. Sitrep? Sir, we managed to contain a dangerous fiend in the sector up ahead. But said fiend proved more formidable than expected. So we were awaiting reinforcements, and imagine our surprise when you showed up. The target seems to have settled down, but there's no telling when it'll act up again. Now's the perfect time to take the thing out. Suppose we oughta lend him a hand, huh? All right, Captain. Follow us! You! Fall back, now! Sir! Come on! Come on! Grazie a tutti. 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 And it'll rip your heads clean off. So make sure you beat it to the punch. We'll link back up with you once we finish our report. Till then, Captain. And then, let's go. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.